Trovare una soluzione definitiva per la diabetologia dell'ospedale di Sulmona, a chiederlo, è il presidente dell'Associazione Peligno Diabetici, Salvatore Del Boccio, che ha chiesto un incontro con i vertici aziendali e le consigliere regionali del territorio, Marianna Scoccia, Antonietta Laporta. Il reparto è un oggetto, scrive Del Boccio, ha riscontrato vari problemi e disfunzioni, probabilmente dovute alle carenze mostrate dalla ASD 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. L'Associazione ha varie proposte che, a nostro parere, potrebbero portare al miglioramento del reparto e del servizio. Diabetologia, lo scorso mese di dicembre, ha dovuto sopperire alle carenze di personale della medicina di Casteldisangro con la spolla da un nosocomio all'altro di una delle dottoresse in servizio. A tutto svantaggio va rilevato per le terapie degli utenti. Problemi si sono registrati anche per la dotazione del materiale glicemico. L'Associazione chiede aiuto alle istituzioni perché il reparto trovi una definitiva stabilità.